Allora, tre minuti dedicati a Ovada. Vedo che sta scendendo qui dall'ambulanza. Buongiorno, prego, prego, prego. Figurati, non voglio intralciare il tuo lavoro. Senti, sei arrivata, hai fatto un servizio. Allora, noi siamo qui alla Croce Verde di Ovada e ho letto che avete bisogno di volontari. Perché? Perché stiamo cercando persone che vengano a fare servizio. e ci sono posti sia per l'emergenza ma anche per servizi ordinari per aiutare il prossimo. Farvi vedere. Vedo che guidi già anche l'automulanza, è importante questo. E cosa ha fatto un corso prima? Allora, sì, ci sono due corsi. Il corso per svolgere servizi ordinari, che sono dimissioni oppure dialisi o trasferimenti da ospedale all'ospedale. oppure c'è il corso per, appunto, svolgere l'emergenza, sia la base che la medica. Bene. Allora, vedo che sono tutti giovani. Vedete, qui c'è un altro volontario. E l'età che serve per entrare a far parte della Croce? Allora, come servizio civile dai 18 ai 28 anni compiuti. e come volontario sempre le 18 in avanti. In avanti. Invece per i corsi li fate qua direttamente? Allora, corsi interni Croceverde, sì. Mentre per il servizio civile bisogna andare dove dà le destinazioni Lampas, che può essere Alessandria, può essere Torino, Grugliasco, sì. A chi si devono rivolgere per iscriversi e partecipare? Venire qua in Croceverde, che ci siamo noi e facciamo domanda, sia per il servizio civile che per il volontariato. Ecco, e quanto tempo devono dare di disposizione, diciamo, per voi? Qualsiasi oppure lo dà... Il servizio civile si svolge cinque giorni a settimana, invece il volontariato quando... Quando uno è libero? Esatto. Voi avete anche una copertura molto ampia, quindi dovete muovervi tra Novi Ligure e Acqui. Tutti i paesi limitrofi. La Croceverde, vedete, ovadese, cerca un aiuto. Sì. Per il volontariato e per il servizio civile. Intanto è bellissima aiutare. È una bella esperienza. È una bella esperienza. Lo assicuro io. Allora, complimenti e tanti auguri a voi, perché siete veramente da premiare tutti i giorni, perché grazie a loro che salviamo delle vite. Con voi ci vediamo nei prossimi tre minuti. Grazie. 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 Grazie a tutti.